Chiesta una nuova sangata sul colossale traffico d'oro in nero fra l'Italia e la Svizzera a richiedere le ultime sette condanne riguardanti il caso Fort Knox è stato il PM Marco Dioni al termine di una lunga requisitoria Associazione a delinquere, ricettazione e commercio abusivo di metallo prezioso queste le accuse mosse nei confronti degli imputati per il quale il pubblico ministero ha richiesto condanne che vanno dai 6 ai 2 anni e mezzo di reclusione Dioni ieri in aula ha ricostruito l'intera vicenda un giro d'affari milionario portato alla luce dalla Guardia di Finanza che nel novembre 2012 presentò ben 150 avvisi di garanzia ad imputati sparsi in tutta Italia di questi 70 erano di Arezzo l'operazione delle fiamme gialle prese il nome dalla villa di Marciano della Chiana chiamata appunto Fort Knox dove settimanalmente avvenivano gli scambi 10 a volte anche 15 chili d'oro in cambio di banconote che da nord raggiungevano Arezzo e viceversa per un valore che tra il 2010 e il 2012 ammonterebbe circa 200 milioni di euro le richieste del PM di ieri sono state 6 anni a Luigi, Pietro e Gianfranco Borrelli 6 per Gianluca Ronconi, 3 anni e 9 mesi per Agnese Borrelli 3 anni per Luca Zanin ed infine 2 e mezzo per Paolo Prevedoni la sentenza sarà pronunciata il prossimo 10 marzo dal giudice Giulia Soldini con Alatere, Claudio Lara e Stefano Cascone